Siamo qui in Bahrain per la prima volta, siamo stati invitati dalla Ministra, una persona straordinaria, secondo me una donna fortissima, piena di volontà e che sta costruendo per la sua popolazione qui del Bahrain, per i Bahrainiti, sta costruendo qualcosa di veramente inimmaginabile. Questa Shaika Mai che mi sorprende ogni volta per la spinta che ha verso il futuro e verso i giovani del suo paese. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La donna è immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. La donna è immobile, qual piuma al vento, muta d'accento. è di pensiero, è di pensiero, è di pensiero. è sempre misero, chi a lei si affida, chi le confida, ma al cauto è il cuore. è di pensiero, è di pensiero. è di pensiero. è di pensiero, è di pensiero. è di pensiero, è di pensiero, è di pensiero, è di pensiero.